Buongiorno, buon lunedì. Il giornale che trovate oggi in edicola si apre con un primo piano dedicato alla settimana corta. Lavoro per quattro giorni. L'Italia e la Puglia sarebbero pronte alla svolta, ma leggete attentamente il nostro approfondimento. Andiamo alle cronache, provincia per provincia, cominciando da Bari. Il focus è sul calcio. Bianco-Rossi in marcia verso la Serie A. L'Ascoli è stato battuto. Poi ci spostiamo nell'abbatto. Una casa popolare su due occupata abusivamente. Controlli ad Andrea. Affoggia corteo di migranti. Cancellare i ghetti. L'ente di ingrandimento sui fondi del PNRR e il rischio fallimento dei progetti presentati. Andiamo a Lecce. Adesso il polo pediatrico è una esigenza urgente insieme al pronto soccorso pediatrico. Ci spostiamo a Brindisi e parliamo del rischio chiusura del centro disabili Arcobaleno. I volontari si offrono di collaborare. A Taranto una nuova denuncia. Il siderurgico inquina. Ed infine Basilicata. 40 anni di Unibus. Un mezzo fallimento. Urge rifondare l'Ateneo. E così io vi ho dato qualche piccola indicazione sul nostro quotidiano a vostra disposizione anche oggi. Vi saluto ricordandovi che come sempre il nostro sito ci mantiene collegati insieme ai canali social per l'aggiornamento in tempo reale delle notizie di Puglia e Basilicata. Buona giornata.